Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo in Puglia, sono tornato infatti in questa incredibile regione dopo due anni che non la visito. Sono qui con mia sorella, faremo un bel viaggio on the road alla scoperta di alcune delle principali tappe della Puglia e in questo video vi mostreremo le principali attrazioni del Gargano. Iniziamo subito, let's go! La Puglia è una di quelle regioni italiane che visiti una volta, te ne innamori e poi non vedi l'ora di ritornarci. Io e Lara abbiamo scelto di partire dal Gargano, meta perfetta per chi vuole regalarsi una vacanza all'insegna di panorami mozzafiato, graziosi borghi e baie immerse nella natura. La nostra prima tappa è Rodiga Organico, un paesino che ci sta piacendo tanto, pieno di vicoli, caratteristici, viste bellissime e soprattutto una cosa che ci è tanto piaciuta sono delle frasi che abbiamo incontrato nelle scalinate piuttosto che sui muri. Rodiga Organico è un comune di circa 3600 abitanti che si trova nella parte nord del Gargano. Il centro storico si trova arroccato a strapiombo sul mare e insieme a peschici, bieste e mattinata rappresenta una delle città più visitate del Gargano. Non si può venire nel Gargano senza visitare peschici, sicuramente uno dei borghi più famosi e più turistici e probabilmente anche uno dei più belli di tutta questa zona della Puglia. Siamo appena arrivati, ora di pranzo, abbiamo una certa fame, cercheremo qualcosa da mangiare, poi visiteremo anche questo incredibile borgo. Primo pranzo del Gargano, ovviamente non potevamo che non prendere un prodotto tipico, una specialità di questo luogo, ovvero le paposce. Sarebbe un panino fatto con la pasta della pizza, l'abbiamo preso entrambi con le cimi di rapa e la salsa. Ciao! Non ne ho nemmeno messo in bocca! Buono? Volevo dirvi che se siete interessati ad altri video sulla Puglia, vi lascio qua in alto la playlist con tutti i video che ho già montato sulla Puglia, perché come vi ho già detto sono venuto due anni fa e avevo già fatto altri video, quindi in questo viaggio cercheremo di visitare i posti che non ero riuscito a vedere due anni fa. Pensate che Peschi c'è un piccolo borgo, conta più o meno 4300 abitanti e ovviamente siccome è un posto super turistico, se volete evitare la folla dovete venire o super presto al mattino oppure, come stiamo camminando noi adesso, all'orario del pranzo, sono praticamente le due di pomeriggio, stanno tutti mangiando oppure si riposano e quindi per fortuna ce la stiamo riuscendo a godere senza troppi turisti. Visto che abbiamo 10 ore di macchina alle spalle, perché noi siamo partiti dal Piemonte in macchina fino in Puglia e visto che tutto il giorno che giriamo, che dici? È arrivato il momento di rilassarci un po' al mare? Assolutamente sì! E questo che vi abbiamo fatto vedere è la spiaggia Zayana, si trova a 5 minuti di macchina più o meno da Peschici. In realtà siamo venuti qua e siamo morti male, abbiamo dormito un paio d'ore in spiaggia. E adesso andiamo al nostro bed and breakfast perché infatti dobbiamo fare il check-in. In Puglia sono famosissime le bracerie, questi ristoranti in cui tu entri, c'è la macelleria con la carne freschissima, scegli quello che vuoi e poi te lo vengono a servire ovviamente nei tavoli come se fosse proprio un ristorante classico. Abbiamo preso ovviamente le bombette che sono un piatto tipico che non potevamo assolutamente non prendere, la salsiccia, le rosticine, patate al forno e il caciocavallo, raga, il caciocavallo è buonissimo. Comunque adesso mangiamo perché c'è un sacco di carne e abbiamo fame. Buon appetito! Il giorno seguente, nonostante il mare fosse decisamente mosso, abbiamo fatto l'escursione che ci ha portato nelle famosissime isole Tremiti. Le isole Tremiti sono un piccolo paradiso del Gargano e sono sicuramente una meta assolutamente da visitare, tant'è che tantissime persone nei commenti, nei video scorsi mi avevano detto assolutamente di visitare le isole Tremiti. Finalmente ci troviamo qua e devo dire che sono molto belle. Il mare anche, raga, è stupendo. Veramente meraviglioso qua. Abbiamo preso il traghetto da Rodiga Organico, pagato 40 euro andata e ritorno a persona. Un po' caro però questi sono i prezzi. In più abbiamo fatto un piccolo tour qui delle isole, abbiamo pagato 25 euro a testa, molto bello, ci hanno fatto vedere qualcosa di caratteristico e in più abbiamo fatto il bagno. Amici, dopo le isole Tremiti abbiamo ripreso il traghetto e ci siamo spostati, abbiamo preso la macchina e adesso siamo in zona Vieste che vedremo domani mattina. Non vi ho detto una cosa importantissima, ovvero che durante questa vacanza in Puglia alcune notti le passeremo sulla Maggiolina, quella che vedete alle mie spalle è una tenda che si monta sopra la macchina. L'avevamo già utilizzata l'anno scorso in Sardegna e ci eravamo trovati benissimo. Quest'anno abbiamo deciso di fare un po' e un po', quindi alcune notti le dormiremo sulla Maggiolina e altre invece nel B&B o negli Airbnb. Adesso abbiamo appena finito di montare la Maggiolina, saliamo su, ci mettiamo il pigiama e dormiamo sulla Maggiolina, proprio perché domani mattina ci svegliamo presto per andare a vedere Vieste. Buonanotte, ci vediamo domani. E buongiorno cari amici, prima notte in area di sosta attrezzata, devo dire che abbiamo dormito veramente bene, nonostante eravamo molto vicini allo stradone, ma eravamo talmente stanchi che abbiamo dormito tutta la notte. Adesso ritiriamo la Maggiolina e vi facciamo vedere Vieste. Grazie a tutti. Vieste è considerata la perla del Gargano, il centro storico di epoca medievale, cattura il visitatore con le sue casette bianche, innumerevoli viuzze e piazzette che si spalancano sul mare. È il comune più orientale del promontorio del Gargano e la sua posizione è strategica per visitare le principali attrazioni presenti in questa zona della Puglia. Vieste è una città assolutamente da non perdere, a noi è il paesino che è piaciuto di più di tutti, veramente merita tantissimo. Pensate che esiste una leggenda che racconta che Pizzomunno era un pescatore che si innamorò della bella Cristalda, le sirene invidiose del loro amore uccisero la bella fanciulla. E il dolore pitificò Pizzomunno e da allora sorge dalle profondità del mare. Pensate che storia! La costa che attraversa Vieste è caratterizzata dalla presenza di numerosissime calette, una più bella dell'altra. In questo momento ci troviamo nella spiaggia di Vignanotica che mi hanno consigliato che è molto bella, in effetti molto molto carina. Un'altra spiaggia se no è Baia delle Zagare che mi hanno detto che è stupenda pure quella, vedremo se oggi pomeriggio riusciremo ad andarci. Per il momento ci godiamo un po' di tempo in questa meravigliosa spiaggia di Vignanotica. Purtroppo noi abbiamo pochi giorni da dedicare al Gargano quindi non riusciremo a farvi vedere tutte le calette, tutte le spiagge ma nemmeno tutti i borghi bellissimi che ci sono in questa area della Puglia. Diciamo che il Gargano meriterebbe almeno, almeno, almeno una settimana. Noi gli stiamo dedicando solo quattro giorni e stiamo facendo anche abbastanza le corse per riuscire a vedere il più possibile. Siamo scesi ancora più giù e adesso ci troviamo in una spiaggia di cui non so direvi il nome perché se tutto va bene dovremo passare qui la notte stasera, proprio di fronte al mare. Stasera la cena prevede pasta al sugo. Pasta al sugo fatta direttamente da Lara. Buon appetito! Buon appetito! Che spettacolo raga, sono felicissimo perché stasera dormiremo proprio col rumore del mare. Sono super emozionato, non vedo l'ora. Bellissimo, veramente bellissima questa esperienza, la possibilità di dormire nella natura con la maggiolina. È una cosa che secondo me non ha prezzo, meravigliosa. Prima notte in sosta libera, appena terminata, abbiamo dormito discretamente bene. L'alba, bellissimo, è veramente stupendo svegliarsi nella natura con l'alba, con questi colori. È magico, esperienza da provare, assolutamente. La cosa importante che dico sempre è che quando si decide di fare questo tipo di campeggio, tutta la spazzatura che si produce bisogna buttarla nei cestini. Mai lasciarla nel posto in cui si è fatto campeggio perché bisogna rispettare la natura. Amici, direi che questo primo video della serie dedicata a tutti i nostri amici è un'altra cosa. La Puglia termina qui. Siamo consapevoli che quattro giorni per visitare il Gargano siano pochi. Soprattutto ci sono ancora tantissimi borghi, sicuramente da vedere, mi viene in mente Vico del Gargano, Monte Sant'Angelo, c'è la foresta Umbra, insomma ci sono un sacco di spiagge ancora che ovviamente noi non abbiamo visto, quindi di robe da vedere nel Gargano ce ne sono. A noi ci è piaciuto tantissimo quello che abbiamo visitato, siamo rimasti molto molto contenti perché è veramente bello, quindi vi consigliamo assolutamente di venire in questo piccolo angolo di paradiso pugliese. Il nostro viaggio però non è ancora terminato, infatti continueremo a visitare altri posti sempre della Puglia, arriveremo fino alla parte più meridionale, fino al Salento, quindi se non volete perdervi questa serie dedicata al nostro viaggio in Puglia, al nostro viaggio on the road in Puglia, iscrivetevi al canale. Detto questo direi che il video è finito, se vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo a chi volete e noi ci vediamo ad una prossima avventura. Ciao! La nostra prima tappa è... Che c'è? Qui si chiama questo posto? Rodi Garganico! La nostra prima... Aspetta, mi devi fare l'avvicinamento, non devi sbagliare questo. Rodi Garganico, Rodi Garganico. Paolo, Paolo, primo pranzo... Primo pranzo nel Gargano abbiamo preso un prodotto tipico. Giusto no? Un prodotto tipico? Sì, è un prodotto tipico no? Sono un prodotto tipico del Gar... Una tappa sicuramente imperdibile da non perdere... Mi sono piaciute le Isle Tremiti. Ma stai filmando? Questa è la passione a volte! Ma cosa? Se faccio il video? Paolo, Paolo. Ti sono piaciute? Ti sono piaciute le... Aspetta. Carissimi Viest... Sì, siamo a Viesta. Sì, fallo forte. Ok. E Pizzo Munno per il dolore... No, 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 ne devo dire rio. Pizzo Munno. Pizzo Munno per il dolore rimase pietrificato. Pizzo Munno... No, è, continua la storia. E Pizzo Munno. E Pizzo Munno... No. Paolo Paolo. Il dolore... Pizzo... No, però mi fa troppo male il braccio. No, 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 no. No, 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 no.